Subito dopo Capodanno, la Comunità dei Dragoni è in festa per San Basilio Magno, Vescovo e Dottore della Chiesa. Come ogni anno, il 2 gennaio a Dragoni, si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Basilio Magno, coordinati dal Comitato Festa della Madonna della Stella, presieduta da Cristian Liaci. Nella Rettoria San Basilio, appartenente alla Barocchia Spirito Santo di Legule, guidata dal parroco Don Andrea Zonno. Tutta la comunità è in preghiera per il santo definito un nominare della Chiesa. La processione di San Basilio per le vie di Dragoni in Legule è la solenne celebrazione presieduta dal parroco Don Andrea Zonno, presente il sindaco di Legule Vincenzo Carlà. Subito dopo accensione dei fuochi d'artificio con il suono anche della banda e accensione del falò in onore del santo. Infine degustazione di pittole con un momento di condivisione fraterna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 2 gennaio, grande festa in onore di San Basilio Magno, a Dragoni. Il Capodanno ci porta a questa festa antica. Come dicevo nell'Eucaristia questa sera, noi abbiamo la presenza della Chiesa dal 1600, ma le tracce dei monaci basiliani sono antecedenti. Quindi questa sera vogliamo con questo fuoco buono poter dire che l'anno nuovo ci deve portare certamente la pace, ci deve portare la bontà nei rapporti, ci deve portare soprattutto ad una vita di fede, ad un ritorno al Signore. E quindi questo vuol dire che è stato fattibile con l'aiuto di tutti i devoti, di tanti cittadini all'interno della comunità dello Spirito Santo, ma qui propriamente, ecco, a Dragoni, San Basilio, che è titolare della Chiesa, diventa un motivo per ripartire come comunità, un motivo per ripartire mettendo insieme i valori del Vangelo e i valori di una buona fraternità. E quindi il comitato, che qui con il delegato Cristian Diaci è rappresentato, ma anche l'aiuto dell'amministrazione comunale, ripeto, di tutti coloro che contribuiscono in modo generoso. Quindi quando c'è l'aiuto e la condivisione di tutti, è chiaro che la comunità nesce più forte, nesce soprattutto rinvigorita per poter progettare un buon futuro insieme e crescere meglio e sempre più. Sindaco, la comunità di L'Equile è in festa per San Basilio Magno, una lunga tradizione a Dragoni. Sì, 2 gennaio San Basilio è una festa più che di L'Equile, di Dragoni, una festa dove i dragonesi, soprattutto Doc, sono molto affezionati. E quest'anno viene arricchita dal ritorno di un'antica tradizione, l'accensione di un falò. E devo ringraziare di cuore il Comitato Festa e tutto quanto, ma in modo particolare il Presidente Cristian Eliaci. Siamo con Cristian, il Presidente del Comitato Festa, Madonna della Stella e San Basilio Magno a Dragoni. Una grande tradizione che torna dopo tanti tanti anni. Beh, sì, in effetti sono all'incirca 30 anni, 32 anni, insomma, che non si faceva più il falò. E quest'anno, ecco, abbiamo voluto fortemente riportare questa tradizione, poco per, insomma, per essere più comunità, per stare tutti insieme e per festeggiare il nostro San Basilio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.